ciao e benvenuti a questo nuovo appuntamento con butac no non siamo sulle iene siamo sempre sul solito canale butac però oggi parliamo di iene oggi parliamo di iene perché questa settimana è andata in onda una puntata speciale si parlava di bufali si parlava di fake news e venivano intervistati david puente e paolo attivissimo amici colleghi debunker le iene hanno fatto un servizio dove rivelavano davide paolo l'identità di uno dei maggiori diffusori di bufale online un soggetto che le iene hanno intervistato perché ne parlo perché a me tutto questo non è piaciuto davide paolo hanno fatto un ottimo lavoro hanno fatto un'investigazione seria per arrivare a puntare il dito contro un editore a puntare il dito contro un autore a puntare il dito contro soggetti che sappiamo avere creato tantissime bufale nell'ultimo anno e mezzo e avere contribuito a disinformare gli italiani le iene sono andato a intervistare il soggetto ma nel loro stile con il loro tipo di comunicare hanno creato una macchietta un personaggio italiano divertente guaglione simpatico a tutti è rimasto simpatico il suo modo di fare le ragioni per cui l'ha fatto satira la voglia di fare un libro che spieghi perché caschiamo nelle bufale di come è facile diffondere fake news non c'è una vera denuncia contro le fake news se ne parla ma se ne parla non puntando veramente il dito contro dei colpevoli e il soggetto in questione non ha fatto poche migliaia di euro al mese per lo meno all'inizio della sua opera ne ha fatte svariate di più conosciamo i dati di ragazzi che abbiamo conosciuto nel corso delle nostre investigazioni e che ci hanno mostrato quanto si guadagnava fino a che facebook non ha modificato gli algoritmi per diffondere determinati tipi di notizie non è solo questo essere sbagliato a essere sbagliato è il fatto che non viene colpito il punto principale il problema non sono i siti come quelli indicati nessuno parte sicuramente ma la rete non ha colpa di tutto questo la rete è soltanto un mezzo è uno dei tanti come la televisione che diffonde le iene come la televisione che diffonde tantissime trasmissioni disinformative nessuna con alcun con verifica dei fatti nessuna con un controllore scientifico che possa certificarla veramente vediamo soggetti di vario gusto proposti da televisioni importanti canali nazionali e allora puntiamo dietro il dito contro la rete in realtà poi il problema non è nella rete nella televisione sia in rete che in televisione si diffonde quello che il pubblico in realtà vuole l'unica cosa che possiamo sperare di fare e non contribuire a questa diffusione di analfabetismo e cercare di aiutare le nuove generazioni quelli che oggi iniziano essere istruiti a essere più alfabetizzati a sapere meglio come funziona la rete a sapere meglio come funziona il digitale a comprendere meglio la realtà che li circonda perché la rete oggi fa parte della realtà è un tramite che ci permette di essere connessi con altri in maniera molto più virale ma è solo un tramite le colpe non sono quelle butac si discosta da chi punta solo e soltanto il dito contro la rete la rete non è cattiva la rete è quello che noi facciamo lei essere lo so questa era una puntata atipica di butac spero di non avervi annoiato qui sotto trovate i link di riferimento sia al nostro articolo sia alla puntata delle iene di cui vi sto parlando mi piacerebbe moltissimo sentire i vostri commenti sapere cosa ne pensate perché questa è soltanto la mia personale opinione probabilmente condivisa da molti dei miei colleghi in maniera più o meno forte non è detto che sia legge ognuno può avere la propria e mi interesserebbe vedere un pochino di discussione anche sul canale youtube o su blog ne abbiamo attonnellate sull'argomento scriveteci per cui se volete iscrivetevi qua sotto e se volete ricevere le notifiche campanellina per questa puntata è tutto ciao